Anticipazione dei Dreamer, lunedì 24 agosto 2020. La mamma di Jeanne prova a mettersi in contatto con lui telefonandoli ripetutamente, ma il fotografo non intende rispondere. Derène organizza una cena e un concerto con Jeanne e il ragazzo accetta, mentre Sanem guarda tutto sconvolta. Così alla fine finisce per litigare con Jeanne in ascensore. I due premono diversi pulsanti per uscire, ma l'ascensore si blocca e la coppia deve affrontare la notte in ascensore. Emre perdona Leila per aver dato la cartellina rossa e i due si riavvicinano. Mentre Jeanne e Sanem trascorrono la notte rinchiusi, iniziano a parlare delle loro vite, dei loro gusti e il fotografo si scusa con la ragazza per tutto quello che è successo. Anche Sanem si scusa e lo invita a ricominciare di nuovo partendo da zero. Jeanne la sta per baciare ma alla fine si tira indietro e le dice che per lui è molto importante ma che non riesce ancora a fidarsi. Ricominceranno come se non fosse mai accaduto nulla ma soltanto come amici perché lui ha bisogno di tempo. L'ascensore si sblocca ma Sanem non può più passare la notte a casa di Ayan come aveva programmato e Jeanne si offre di ospitarla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.